Che pancione! Che noia! Vuole il patatino di me con su te? Siii! Non c'è la mamma? Non c'è, è lavoro! Ok, guarda! Oh che bello di me con su te! Tutte qui! Guarda! Una sorpresa! Abbiamo trovato delle calamite! Ho trovato lui e Kireray e poi ancora un altro Kireray Io ho trovato di me con te e Sophie Strano! Io ho solo due calamite, io ne ho tre! Mangiamolo! Si! Che buone! No, 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 no! Nascondiamo, nascondiamo! Bambine, tutte bene? Siii! Cosa fate? Niente! Stiamo giocando! Brave! A dopo! A me non ho ancora fame! Beh, ho altre patatine! Siii! Andiamo su! Siii! Io ce la soffia! Io di nuovo lui! Che pancione! Anche io! E cosa facciamo? Adea! Facciamo sport! Siii! Andiamo! Alexa! Metti musica me contro te insieme! Riproduco insieme! Riproduco insieme! Dalla tua libreria! Non ti serve un altro veloce! Sei molto bene! A volte basta! Tanta bene! Tanta amici sinceri! Sei buona compagnia! Ora prendi vita in mano! Che da soli si va più veloce! Ah! Non c'è la pancia! È vero! Non c'è la pancia! Evviva! Evviva! Sicuramente! Fate lo sport! Siii! La mamma! La mamma! Che cosa avete fatto? Abbiamo fatto lo sport! Abbiamo fatto lo sport! Abbiamo fatto lo sport! Che brave! Bravissime! Guardate che cosa ho! Eh no 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 no! Eh... Grazie mamma! Grazie mamma! Grazie mamma! Lo avremo dopo! Iscrivetevi al mio canale e mettete un palco in su! Ciao! Guarda giochi con Dana mentre mangi una barba! Ciao! 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 Ciao!